a fatigliere corpore si è che a skyline come potete anche vedere dalla dello sfondo del nostro canale dynamic test oggi fare caso il mio nome del pc perchè è così avvermi chiedete perchè non ha avuto soldi per cambiare il nome e non lo vorrei nemmeno cambiare vabbè non vuole spendere sul niente non fa niente iniziamo subito startiamo ok io inizio lo so che perderai ma non no hard feelings come dire per inglesi vai se no hard sai che niente scusate se qualche volta ci sarà baccana nella mia casa ma siccome ragazzi se ci saranno dei lag non sono cazzi nostri ok io non è colpa mia volevo dire se ci sono l'agghe sono meno merda ecco oh merda siamo arrivati ecco dynamic e versos rector 2 rector ma io non lo farò mai poi mai vincere muori ragazzi mi laga di brutto grazie infatti eccolo 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 qui ma come possibile 10 ma porca buttana grazie e cosa succede chi vuole un po' di competere con un più 10 in realtà chi vuole comprare con i più 10 di solito vince chi vuole comprare con la foto wow 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 pow wow 3 e Jeske mi guarda infatti lo so contrasto l'hanno data tutti lo so lo so ma te non l'hai preso il sì l'ho preso madonna parola fin un erano pra smicino fu forte gli avete parlando anche che il mio client è cambiato di lingua perché è in italiano come ho detto tornamosi ricci E ho comprato anche le parti per i pc Che vi dirò un altro video Che un altro video vi parlerò Che vi dirò un altro video da Froji Sì anche da Froji Cioè no non da Froji Non so se farà un unboxing Non so se farà un unboxing Cioè non sono sicuro Io spero di sì Perché voglio proprio vedere E morite tutti Vi farò vedere ma non Non vi darò la certezza Che lo aprirò le parti Vi farò vedere solo la scatola Perché l'altro giorno sono andato a vedere un tutorial Cioè tutorial diciamo Un unboxing e uno mi ha fatto vedere per 10 minuti La scatola quindi vi farò lo stesso Unboxing che ha fatto lui E questo è colpa del lag Porco cane Non esiste un cane porco Scusate ragazzi per queste vestibili Queste vestibili Mi dispiace davvero Eh inizio e continuiamo con i video Ecco ho ucciso Praia ragazzi C'era anche mia macchina Cioè non mi rompevamo Mi era venuta a dare una cosa Che non parla l'italiano Quindi Catto per mettere un suono diverso Vabbè non fa niente Mentre ci sono le sue originali Visto che E mun Visto che parliamo in bengalese Parliamo in bengalese Sinestro Purtroppo questo è il tempo Quando Non siamo da soli Quindi ci sarà un po' di gente No questa è la verità Non siamo mai da soli Visto che Noi siamo stranieri Come potete sapere Noi siamo stranieri E che vuol dire non siamo da soli? Certo che siamo da soli Cioè Non è che non siamo mai da soli Cioè non è che non siamo mai da soli Ma i nostri genitori non capiscono che Non capiscono queste cose Non capiscono queste cose Quindi Eh credo che anche i vostri genitori Perché Non tutti i genitori capiscono le cose tecnologiche Dicono Siete tutto il giorno il computer Non fai una sega Vai a studiare Vai a studiare Tutto il giorno a studiare Poi 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 dopo Dopo che avete studiato Che vi dicono Eh ma studia ancora Studia ancora Ecco Questa è una cosa che mi fa incazzare Ora ho le ali cazzo Tra un po' mi riesco con gli spi Come da E muori Mori cane Mori cane Mori cane Merda Sto facendo una figura di merda Ok Ma quello si sa Ma che palla di Fendi Le tue palle forse XD Vabbè scusate ragazzi Per questa interruzione del cazzo Ma Eh ho dovuto sistemare un po' il video Se no qua Se no qua si muore Cioè stai già morendo per te la verità eh Sì stai già morendo di brutto ragazzi Stai già morendo di brutto Tutto colpa per la mia Tutto colpa per la mia connessione Per cazzo Eh cazzo ti avevo detto di Non dico altro Non dico altro Non dico altro Sono perma Sono solo più tre ore Quindi Quindi ragazzi Andiamo Andiamo Anche da parte mia Questo video Sarà un po' merdoso Perché il mio pc Perché è un video Senza più visi Quindi Siccome non facevamo un video Un ragazzo Cerchesso di farlo E l'abbiamo parato Tanto per fargli vedere Che noi lo facciamo Non siamo solo hacker Ma siamo anche figli Che giocano a tutti i giochi Del mondo Quindi Tutti i giochi del mondo No Perché Se mi fa giocare Dun 3 Mi caco sotto C'è Diciamo Dun 3 innanzitutto È un gioco che ho già giocato Sì certo Ora non dire balle Sì Ho giocato Dun 3 BFM Intanto Sì certo E che cambia Dalla versione standard A quello più è La versione BFM È più bella C'è la grafica più nuova Quindi Succhia Succhia Mi è perché Secondo me Avrei giocato solo uno E fa cagare sotto Quindi No comments Quindi io non l'ho nemmeno finito Guarda Cosa? Non l'ho nemmeno finito Sì grazie Hai detto appena che hai giocato No dico Io non l'ho nemmeno finito Io non l'ho nemmeno iniziato Ma ho avuto paura Quando ho preso la torcia Cazzo Cazzo Non ci capivo un cazzo Cadevo 100 volte giù Ho detto Ma Andiamo su Appena sono andato su A pretto a porta Ah In faccia Non è che ho fatto Perché io non urlo Cioè io non urlo Che shot del cazzo ragazzi Che shot del cazzo Ma che shot del cazzo Questi sono proprio shot del cazzo Magari farò una prova a Dead Space Perché ce l'ho a Dead Space Uno e due e tre Ok Da Space è un gioco che odio Un gioco che odio così tanto per odiare Scusate se vi piacete a Space Non dico che un gioco Ma a me piace Non mi piace solo di gusto Perché io non gioco E cerchi i caratteri pedo Perché se non mi piace Non mi piace Non mi piace Se spesso come Halo 4 Halo tutti le bestie di Halo Ma l'ho messo sul Non è che non mi piace Non è che non mi ingaro Però non mi piace E muori E muori E muori Oh Bastardo Ti stavo quasi per mazzare Questo si chiama azione da pro ragazzi Sì Questo si chiama culo Questo si chiama azione da pro Con il lag che c'ho Intanto ti andiamo a fottere il numero Io dovrei avere più lag di te perché Il mio cpu sta sopportando la grafica Più il video E intanto il mio cpu sta sopportando i ventilatori Più la grafica Più la scheda madre che Ma che il ventilatore Il ventilatore non ti fa il cpu Ti fa l'alimentatore Ma chi se ne frega Chi se ne frega Muori 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 cane Muori cane Muori cane Ecco Io ho un shot del cazzo Madonna Madonna futtano Madonna futtano Cazzo Buona shotta No Futtifista Futtifista No Non l'hai servito a un cacchio E dynamic more Invece no Ci stanno immortali Ricordo Come vedete siamo Full pan Siamo full pan di brutto Quindi 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 niente Non ci Non ci rompete il cazzo Con le vostre armi di AP Fichissimi O Qualcosa altro Ma lui non ce ne frega Che voi ci sfidiate O Dici a te Non commentate sotto scrivendo O Ma voi siete Nabi Cazzo Eh ma certo Chi siamo Nabi Di obono Non già Non vogliamo sapere da un altro Chi siamo Nabi Che lo sappiamo già Eh Seconda cosa Ecco Seconda cosa Mi ha passato a te E ti faccio anche un po' Anni più uno Porco giuda Ok Porco canne Devo difendere la mia base Lo cazzo Ah si madonna Ah 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 Arrivo Chi se ne frega Io sono qui ad aspettarti Oh merda Mi ha visto Oh cazzo Lo cazzo Lo cazzo Lo cazzo Figli ti buttano Figli ti buttano Figli ti buttano Figli ti buttano Cazzo Manca un minuto Porco giuda Manca un minuto In un minuto ragazzi Devo fare un'azione d'eroe Come Rambo Rambo ti stimo Rambo Chi è Rambo Rambo Non lo conosco eh Rambo 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 È sciotto a caso Madonna mi ha fottuto Zichi Non è che ti ho fottuto Che è rianimazione veloce Guardi Tutto bastardo Ultimamente Perché non ho levato ancora i coin Da quello che hanno detto Dove vanno levati Ah Sì Eh tanto Forse non la season 5 Merda Merda Ma che cazzo dici season 5 Se la season 5 giocherò solo due giorni Ma che cazzo è season 5 Season 6 siamo Abbiamo Devo scegliere la season 6 Non la season Non siamo a qua Ecco Ma sbagliarono anche così Season Ma noi siamo alla season 5 ora Che dici Siamo alla 4 Siamo alla 5 Amico Vivi nel presente Merda Però non cambia un cazzo Quindi può anche essere dark lighting Benissimo Solo con un po' di update Ok Ciao a tutti Finisce la partita qua Sì finito Ha ha anche da parte Bella Ho Sono stato stracciato con un cane Però Non come A me è arrivata a metà Bella Ciao Commentati Scrivete Offendetici No scherzo no Non offendetici Dattici bei commenti Visto che siamo Canale nuovo Scusate per i gusti lag del cazzo Perché Però Non posso fare tanto Con questo pc Verranno nuove modifiche Visto che il nostro amico rector Scoprirà un nuovo pc Con big money Big money Farò una bella spesa Non è big money È little money Perché io volevo fare con mille e decennate euro Ma non mi ha dato la possibilità Vabbè Non fa niente Cazzo È andato via la luce della luce È stato Vi è fatto solo ed esclusivamente per fare video Ok Prima di chiudere il video vi dico che Sono ora al buio e mi è andato via la luce Quindi dovrei cambiare la lampada Ciao a tutti Quindi devo Cambiare la lampada E ti auguro quando tutti Cambiare la lampada Da qui a tutti Allora non piove In Italia non so Non piove anche qui Non piove Piovono lampade Non una giornata serena Una giornata piovosa Cazzo Non piove Ciao Ok Ciao Ci vediamo i video Definitivamente